Ogni giorno in Italia viviamo un paradosso enorme. Siamo uno dei paesi con la ricchezza privata più elevata al mondo e allo stesso tempo uno dei paesi con il livello di educazione finanziaria più basso. Milioni di italiani non gestiscono i loro soldi in modo consapevole, non investono e se investono lo fanno a caso seguendo i consigli di persone che in realtà non meritano la loro fiducia e pensano ancora che comprare casa sia l'investimento migliore. Per questo abbiamo dato vito a questo podcast I principi dell'investimento con Luca Lixi, fondatore di Lixi Invest e punto di riferimento in Italia nella finanza personale che in ogni episodio ti svela come riprendere il controllo dei tuoi soldi e come investirli per generare ricchezza nel lungo periodo. Leggi la guida che ha preparato per te dal titolo I 5 errori che tutti gli investitori fanno e come evitarli che ti fa finalmente aprire gli occhi sui comportamenti sbagliati che mettono in pericolo la tua crescita finanziaria. Ogni investitore consapevole non può fare a meno di questa guida, la trovi andando su principidellinvestimento.com quindi vai su principidellinvestimento.com per mettere le tue mani su questa preziosa guida e adesso buon ascolto. Benvenuto in un nuovo episodio di questa serie speciale di podcast con Luca Lixi dal titolo I principi dell'investimento serie speciale di episodio ognuno dedicato a un argomento specifico di finanza e di investimenti che ti permette di ricevere una vera e propria formazione finanziaria fondamentale per la corretta gestione dei tuoi soldi. Io sono Valerio Russo, conduco il podcast Talent Bay dove ho avuto il piacere di ospitare Luca Lixi nell'episodio 35 e sono qui proprio con lui. Luca Lixi è autore del libro bestseller che trovi su Amazon i 10 comandamenti dell'investimento finanziario ed è il fondatore di Wikileaks, il gruppo Facebook di finanza e investimenti più importante in Italia che ogni giorno aiuta migliaia di persone a gestire e investire correttamente i propri soldi. Luca, bentornato in questo nuovo episodio dei principi dell'investimento. Ciao Valerio, ben trovato a te e un saluto a tutti quelli che ci ascolta. Allora, dopo Warren Buffett e Ray Dalio in questo episodio ci concentriamo su John Bogle famoso per aver rivoluzionato il mondo della finanza introducendo un metodo di investimento quello dei fondi indicizzati a basso costo che oggi è ben conosciuto e diffuso su larga scala ma che nel 1975, quando lui l'ha inventato era quanto di più assurdo si fosse mai visto tanto che gli venne addirittura dato del pazzo. La rivista Fortune ha definito Bogle uno dei giganti dell'investimento del XX secolo e attraverso il gruppo Vanguard che lui stesso ha fondato una delle società di investimento più grandi del mondo che oggi ha in gestione oltre 6 mila miliardi di dollari cioè 6 trilioni di dollari attraverso Vanguard John Bogle ha permesso a milioni di risparmiatori di investire i loro soldi con performance superiori a quelle dei fondi attivi fondi attivi che fino a quel momento erano lo standard e con costi notevolmente più bassi e notevolmente più trasparenti. Lui è morto nel 2019 all'età di 90 anni ma lascia dietro di sé un'eredità importantissima per il mondo della finanza e per capire l'impatto che ha avuto nel mondo degli investimenti ricordiamo la frase di Warren Buffett che dice John Bogle ha fatto più per l'investitore individuale di chiunque altro così come la frase dell'economista americano Samuelson che ha detto l'invenzione di Bogle cioè quella dei fondi indicizzati a basso costo è analoga all'invenzione della ruota dell'alfabeto e della stampa di Gutenberg Luca perché quest'invenzione di Bogle dei fondi indicizzati a basso costo è stata ed è così importante per milioni di persone che vogliono investire i propri soldi? allora guarda per me tutto il rispetto per Buffett per Dalio per altri grandi investitori di cui parleremo anche nelle prossime puntate John Bogle è il mio vero idolo per me è un idolo assoluto perché rispondendo subito alla tua domanda perché è così importante per il risparmiatore perché è stato tra i primi nonché il più importante imprenditore che ha fondato la sua azienda non sul concetto di investimenti ma sul concetto di investitore perché immaginatevi parleremo tanto di mercato in questo podcast però un concetto lo voglio iniziare subito a dire c'è un'industria finanziaria che è come qualunque industria è composta da due parti c'è chi crea e vende i prodotti finanziari anche fondi di investimento parliamo in generale poi andiamo nello specifico e c'è chi compra i prodotti finanziari domanda e offerta semplicemente queste due grandi fazioni tendenzialmente però chi è che li crea i prodotti finanziari appunto chi poi deve andare a venderli e quindi domina nel mercato e che da un certo punto di vista non ha mai avuto alcun interesse al fine di fare investire con successo i risparmiatori questo è un concetto di conflitto di interesse che vedremo molto approfonditamente John Bobbler e la sua Vanguard sono stati invece i primi a restituire potere agli investitori perché tramite la sua invenzione che dopo analizziamo ha fatto questo ha consentito di ribilanciare diciamo così ribilanciare il potere dalle mani dei produttori di prodotti finanziari fondi di investimento banche Wall Street si chiama così Wall Street non è solo la via non è solo diciamo la via dove sorge la borsa valori americana ma è anche la frase la parola che indica proprio il mondo della finanza quindi per passare un po' ribilanciare il potere tra il mondo della finanza inteso come le banche società di investimento al mondo dei risparmiatori degli investitori che poi sono i clienti finali sono coloro che devono trarre vantaggio da tutta questa industria finanziaria qua ha fatto questo è stato il primo è stato il migliore quindi veramente per questo tutti ok convengono sul fatto che sia veramente 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 uno un uomo che ha cambiato le regole del gioco però cioè l'osanna Nora no lei ha detto anche te Nora è una figura estremamente a parte che è morto quindi è una figura estremamente affermata apprezzata cioè osannata eccetera ma è sicuro che quando fondò Vanguard no parliamo del 1974 non era assolutamente così cioè consideravano si diceva The Boggles Folly la follia di Boggles questo concetto di indicizzazione che ripeto dopo approfondiamo nello specifico è tranquillo la stiamo raccontando un po' consideravano questa sua idea di business un'idea cioè anti-americana la descrivevano descrivevano appunto la sua filosofia come un un percorso garantito verso la mediocrità e inizialmente ottenne anche risultati mediocri perché nessuno voleva investire risultati mediocri intendo di raccolta di denaro non sui fondi di investimento perché nessuno voleva investire nel suo fondo perché non veniva compreso cosa c'era sotto e questa sua invenzione cioè Boggles ha sacrificato non sacrificato ha dedicato la sua intera vita a questo concetto fuoco qua perché dovete pensare lui è del 29 quindi è nato in una data proprio anche emblematica per la storia della finanza nel 51 formulò la sua tesi alla Princeton University su questo concetto qua la tesi era di economic role for the investment company e va già in testa questo concetto lui no in una parte della sua tesi diciamo voglio consigliere un modo per voglio permettere alle persone di investire con modalità nuove più economiche più efficienti e persino più oneste ce l'aveva già chiaro non chiaro però il primo virgolto di questa idea che poi ha cambiato il mondo della finanza lo ebbe appunto quando era molto giovane all'università quando stava formulando formulando la laurea quindi inizialmente fu preso per pazzo lui personalità molto forte un ribelle non guardate adesso le foto di quando aveva 80-85 anni è un nonnino era un nonnino alla Buffett quando era giovane era bello bello carico perché ripeto ricevette critiche di tutti i colori ma piano piano in realtà l'efficienza della sua strategia di investimento si fece strada perché veramente la logica l'aritmetica che sta sotto la superiorità di questa logica è assolutamente schiacciante se anche ora oggi in Italia non è super conosciuto e in tanti comunque non la usano è perché appunto non è conosciuto ma in paese come l'Italia dove c'è l'alfabetizzazione finanziaria tra i livelli più bassi nei paesi sviluppati oppure perché i venditori di fondi di investimento vari con il loro marketing con le loro vendite raccontano il contrario la verità è che però racconta budget quindi per chiudere un po' questo breve non tanto breve preambolo l'invenzione di Bogle è stata quindi veramente importante ha cambiato la regola del gioco per migliaia di risparmi migliaia che migliaia milioni di investitori perché veramente ha permesso di guadagnare davvero sul mercato che è l'obiettivo per cui tutti investono tendenzialmente guadagnare sul mercato tramite evitando appunto di regalare denaro a chi vende prodotti finanziari quindi fondi di investimento banche tutti i loro promotori fare questo senza diventare degli esperti di finanza o trascorrere tutto il giorno analizzando titoli grafici mercati e bilanci Bogle ha permesso questo tanto di cappello veramente ha cambiato il mondo della finanza e la nascita di Vanguard fondata da John Bogle abbiamo detto attorno al 74 75 deriva dalla lezione imparata da Bogle stesso quando fece quello che lui considera finanziariamente parlando l'errore più grande della sua vita quando i ricavi dell'azienda che lui gestiva la Wellington Management Company si dimezzano da 2 miliardi a 1 miliardo e soprattutto nel giro di qualche anno il prezzo in borsa dell'azione di Wellington perde quasi tutto il valore e crolla da 50 dollari a 4 dollari addirittura e qui parliamo di quando lui aveva 45 anni a causa di questi risultati fu licenziato e imparò però la lezione imparò dal suo errore e ebbe l'intuizione di sviluppare o hai detto che aveva già avuto i primi i primi spunti quando era ancora al college però probabilmente ha avuto la possibilità di applicare questo metodo di investimento basato sul principio che invece di cercare di battere attivamente il mercato era meglio creare un fondo indicizzato gestito passivamente che invece replica l'andamento del mercato e da qui nacque Vanguard che è stato di fatto il primo fondo indicizzato al mondo disponibile al grande pubblico per chi magari sente per la prima volta espressioni come queste cioè battere il mercato o replicare il mercato cosa vogliono dire e perché sono così importanti per chi investe sì sì è un casino un casino spieghiamo non è un casino però per chi non lo sa veramente spegne il podcast e butta via tutto perché chi non è nel settore fa un po' di difficoltà ma io consiglio di starci a ascoltare perché sono in realtà cose che diciamo influenzano le proprie finanze il proprio portafoglio quindi adesso spieghiamo bene andiamo un po' con ordine andiamo un po' con ordine e cerco di raffigurare questa situazione di cui abbiamo parlato con la parola non è facilissimo ma ce la faremo sicuramente partiamo da un concetto base cos'è il mercato se parliamo di battere il mercato dovremmo anche capire bene cos'è un mercato un mercato proprio per parlare a chi non sa nulla di finanza ma è utile anche per tutti pensate al mercato dove andate a fare la spesa andate a comprare il pesce andate a comprare altre cose è il luogo di scambio il mercato che interessa a noi un luogo di scambio non di pesce o di verdure ma di strumenti finanziari un luogo dove si scambiano dove vengono scambiati scambiare cosa vuol dire comprare e vendere si comprano e si vendono degli strumenti finanziari non è più chiaramente un luogo fisico come era nell'ottocento o sino magari nel 60 70 è un luogo digitale per quanto comunque ci sia ancora assolutamente New York Stock Exchange anche in borsa italiana piazza a fare esiste ancora fanno delle altre cose all'interno ci sono più i tizi che dicono eh vendo canistracci oil queste cose qua non esistono più le contrattazioni non sono più alle grida questo sì è un luogo digitale però ripeto è un luogo dove si comprano e si vendono strumenti finanziari facciamo un altro ulteriore passo indietro strumenti finanziari cosa sono tendenzialmente azioni oppure obbligazioni è quello il mercato obbligazionario sono valute sono materie prime quindi abbiamo il mercato dei cambi il mercato delle materie prime tutti gli strumenti finanziari ok quindi è un mercato a tutti gli effetti dicevo quindi è rappresentato da due grandi forze la domanda ovvero chi vuole comprare i titoli chi vuole chi sta domandando questi titoli desidera comprarli e l'offerta ovvero chi vuole vendere questi titoli li sta offrendo sul mercato domanda e offerta signori cercate di stare un po' attenti perché adesso non è che sto spiegando cose particolarmente complesse assolutamente il programma di ragioneria di prima superiore penso sono cose importanti non è che devo fare il professorino io sono cose che sono importanti per la propria vita finanziaria ok il punto di incontro tra domanda e offerta abbiamo spiegato un secondo fa se ci pensate il punto di incontro in cui venditore e compratore si mettono d'accordo si mettono d'accordo per scambiare questo titolo a uno interessa comprarlo l'altro interessa vendolo si mettono d'accordo e decidono in questo caso questo punto di equilibrio è il prezzo quindi questo è il mercato si possono scambiare pesci o verdure sul mercato si possono scambiare azioni che è quello che origina il mercato azionario vediamo un po' al concetto di indice perché questo è fondamentale per spiegare il mercato l'indice cioè il primo a ideare questo concetto di indice fu Charles Dow avrete sentito tutti anche solo al telegiornale al mattino quando sentite come sono andate le borse l'indice Dow Jones Dow è lui Johnson non c'è un altro Charles Dow è l'ideatore del concetto moderno di indice cosa ha fatto questo signore qua nell'ottocento praticamente ha sommato ha sommato i prezzi delle azioni ok che in quel momento venivano scambiate sul mercato quindi ha sommato i prezzi di queste azioni un'azione quotava 500 costava 50 dollari un'altra azione quotava scambiava aveva un prezzo 10 dollari le ha sommate e poi ha fatto praticamente semplicemente la loro media la loro media è questo è diventato ok è diventato questa somma qua la propria media è diventata il valore dell'indice Dow Jones Industrial Average Average Media ok quindi questo è il valore dell'indice Dow Jones la somma dei prezzi di tutte le azioni che vengono scambiate all'interno di quel mercato ok e poi una media tra tutte queste azioni media semplice proprio nel caso del Dow Jones che infatti è un indice particolare questo è il concetto di indice a cosa serve un indice sembra una cosa inutile è utile per monitorare cioè nel corso del tempo come stava andando un mercato perché è una media appunto è una media dell'andamento di tutte le azioni che lo compongono è utile per monitorare eccetera quindi per tornare a noi un po' anche i tempi moderni questo è unico il mercato abbiamo visto cos'è abbiamo visto cos'è l'indice che alla fine è una sintesi in un numero solo ok dell'andamento di tutte le azioni che stanno che vengono scambiate dentro al mercato che soluzioni ha se ci pensate un risparmiatore può o decidere di replicare l'andamento di questo mercato ok compra tutte queste azioni compra l'indice che rappresenta la somma della media di queste azioni ovvero acquistare tutte le azioni che lo compongono questa è un'invenzione moderna prima mi ha detto l'ha fatto cioè l'ha ideato è l'invenzione Cardinal di John Ball è degli anni 70 prima di lui questa cosa qua non esisterà ma anche perché immaginate se non crei un veicolo che permette di far questo cosa devi fare dovresti comprare tutte le azioni materialmente e spendi un sacco di soldi in transazione diventa scomodissimo eccetera quindi si possono scegliere due grandi strategie di investimento o comprare il mercato quindi replicare l'andamento del mercato ovvero replicare l'indice acquistando sempre un etf giusto per tornare ripeto ai tempi moderni e magari un termine un prodotto finanziario che tutti conoscono oppure cercare di battere questo mercato battere questo mercato è il concetto che stavamo dicendo nel senso anziché comprare tutto il mercato quindi affidarti al fatto che comunque il mercato offrirà dei rendimenti nel suo complesso tu cosa fai? decidi di battere questo rendimento medio average decidi di battere questo rendimento medio acquistando solo alcune azioni ovviamente acquisti solo quelli che pensi vadano meglio delle altre però tu non lo sai questo è un altro concetto che svilupperemo tanto quindi compri alcune azioni altre non le compri due strategie o le compri tutte o ne compri solo alcune perché tu pensi di sapere quelle che andranno meglio e queste sono le due strategie che abbiamo oggi che è la grande lotta che in America c'è un dibattito furioso tra gestione passiva o indicizzata meglio perché passiva è un termine che non mi piace è un termine un po' un po' così un po' mediocre un po' perdente quindi gestione indicizzata ovvero comprare l'indice comprare il mercato oppure gestione attiva comprare fondi di investimento che cercano di battere il mercato in America c'è uno scontro pazzesco tra queste due fazioni e così insomma e quindi abbiamo detto i fondi attivi che fino a metà degli anni 70 quando è arrivata l'invenzione di Bogle erano lo standard i fondi attivi cercano spesso senza riuscirci di battere il mercato al suo opposto troviamo la strategia di Bogle portata avanti attraverso Vanguard di invece che battere il mercato replicare il mercato comprando tutto l'indice andiamo a vedere nel pratico allora cosa è venuto fuori da tutte le analisi gli studi le ricerche le statistiche fatte su Bogle quindi effettivamente sulla sua performance e su quella della sua filosofia di investimento di replicare il mercato hai detto bene una cosa importante prima adesso la sottolineo prima dell'avvento di Vanguard da Bogle e quindi degli ETF per capirci i fondi di investimento avevano in realtà cioè la loro come si può dire idea commerciale corretta giusta e vincente non era quella di battere il mercato a parte che non si poteva comprare il mercato prima quindi non era un concetto che a loro interessava allora il concetto importante era compra con noi investi con noi così puoi anche diversificare perché immaginatevi veramente negli anni 30 cosa potevi fare cioè comprare azioni singole ma non potevi mai diversificare perché comunque ne potevi comprare poche era una rottura di palle non c'erano i computer quindi era clamoroso invece i fondi a T avevano questa ottima funzione comunque di permetterti mettendo una firma e comprando un prodotto di avere 100 azioni in portafoglio che ne so ok quindi questo andava molto bene però poi una volta che Bogle ho detto no no comprate il mercato i fondi attivi hanno dovuto cambiare la loro politica commerciale e tutti i fondi che vendete tutti i fondi che comprate in banca per capirci se i fondi promotori i promotori di banca e questo vi vendono il sottointeggio della loro offerta commerciale è questo dacci soldi che noi battiamo il mercato ok il punto è che non lo fanno il punto è che non lo fanno perché la superiorità schiacciante del mercato è l'impossibilità da parte dei fondi attivi soprattutto quelli commerciali che vi vendono nelle banche i promotori finanziari non battono il mercato ok è un'inferiorità schiacciante dei fondi attivi è una superiorità degli ETF ci sono caterve 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 di studi di analisi di ricerche che documentano questo il più importante è redatto annualmente o semestralmente forse se non ricordo dal centro studi della Standard & Poor's Dow Jones Indices ok che pubblica lo Spiva Scorecard ok quindi la scheda segnapunti di questa sfida tra ripeto fondi indicizzati ETF e fondi attivi quelli che dicono di poter battere il mercato un concetto cioè parliamo di uno studio super affidabile cioè non è che stiamo parlando di un Standard & Poor's Dow Jones Indices parliamo del centro del nucleo della finanza mondiale che vorrebbe vendere ancora il concetto che i fondi attivi sono vantaggiosi perché ci si guadagna molto di più vendendo fondi attivi quindi è uno studio non è uno studio commissionato da Vanguard oppure è fatto da qualche blogger strano anti banche no è fatto da Standard & Poor's Dow Jones più affidabile di questo poi questo studio qua dice praticamente che nel medio e lungo termine quindi a 10 15 anni ma anche per archi temporali molto più brevi il 90% dei fondi attivi non batte il mercato ok cioè tu dai soldi a qualcuno ripeto un promotore consulente che ti vende il fondo attivo oppure semplicemente in banca gli dai per fare qualcosa ovvero battere il mercato lui ti carica una commissione quindi lui ha un guadagno assicurato che tu vinca o che tu perda che tu guadagni o che tu perdi lui la commissione te la incasa dopo vedremo bene in che modi e poi non fa quello che ti ha venduto ovvero battere il mercato perché il 90% non lo batte 90% 9 su 10 900 fondi ogni 1000 fondi di investimento sul mercato 900 non battono il mercato tu mi dirai vabbè il mio consulente mi ha detto che lui però è bravo e seleziona quell'uno su 10 che batte il mercato e no perché non vuol dire se lo devi selezionare prima che batte il mercato perché sono bravo anch'io andare su morningstar tirare giù una classifica basta che premo un tasto vedo quelli che sono andati meglio ma quelli signori sono quelli che sono andati meglio in passato non sono quelli che andranno meglio in futuro ovviamente perché c'è anche questo punto qua c'è chi batte il mercato un anno si può battere il mercato diceva Barton Michael che è un accademico statunitense che è anche una una scimmia bendata ubriaca tra virgolette che tira le freccette se non ricordo sarà proprio così però rende bene l'idea forse la sto caricando anche di più di più incredibilità può battere il mercato ok per fortuna cioè la fortuna il caso una volta ok due volte tre volte no tre volte perdi perché stai andando contro la statistica stai andando contro la probabilità e questo è insomma ci sono poi delle altre cose vi ripeto 900 fondi perdenti però i fondi non sono 1000 immagino se sono 10.000 100.000 fondi sul mercato ok se sono 10.000 9.000 fondi non battono il mercato quindi teoricamente 1000 lo battono 1 di quanto lo battono prima cosa 2 per quanto tempo lo battono perché in realtà diciamo in un arco di tempo veramente lungo sufficientemente lungo nessuno questa percentuale arriva al 100% perché i fondi costi vengono fusi vengono cambia il gestore o semplicemente muore il gestore c'è mania di dare i soldi a Warren Buffett 10 anni fa 15 anni fa per 15 anni ha buttuto il mercato poi Warren Buffett muore speriamo sempre tra 300 milioni di anni per carità però cambia il gestore cambiano tutte queste cose qua quindi non sarà per sempre questo discorso qua perché cercare di fare una cosa che è così contro contro statistica contro probabilità dove ci guadagna una sola parte ovvero chi vende questa grande 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 bugia che si possa abbattere il mercato di tanto e a lungo questa è una bugia dico l'ultima cosa questo non vale solo per il mercato azionario vale per ogni tipo di asset class tutti i fondi di investimento su qualunque asset class ve ne dico qualcuno poi magari è un concetto che approfondiamo se no l'abbiamo fatto anche nei precedenti pot questo vale per l'azionario statunitense l'azionario italiano l'azionario paesi emergenti vale per l'obbligazionario vale per le small cap vale per le obbligazioni high yield vale per ogni asset class nel lungo termine la quantità di fondi di investimento che batte il mercato tende a zero e abbiamo detto che l'importanza dell'invenzione di John Bogle dei fondi indicizzati non è solo relativa alla possibilità di investire replicando l'indice ma alla possibilità di investire replicando l'indice pagando un costo molto molto basso è importante notare che il punto non è tanto una ricerca estrema del taglio dei costi cioè di queste commissioni che gli investitori pagano nel caso di fondi attivi ad esempio il risultato finale cioè la performance finale di quell'investimento e molti sarebbero anche felici di pagare ai fondi attivi questi costi se effettivamente il risultato dell'investimento la performance finale fosse superiore a quella del mercato ma ci ha appena detto il problema è che per il 90% dei casi i fondi attivi nonostante facciano questo di professione comunque non battono il mercato e da cosa nasce questa superiorità così schiacciante ed evidente della filosofia di investimento di Bogle cioè com'è possibile che i fondi attivi quindi stiamo parlando di grandi aziende dell'industria finanziaria che in teoria hanno i migliori manager i migliori analisti le migliori tecnologie accesso alle migliori informazioni com'è possibile che nonostante tutto questo non riescano a battere il mercato o anche se lo battono non riescono a farlo per lunghi periodi di tempo una bella domanda una bella domanda lascia un po' di riflessione rispondo prima in maniera sintetica poi magari la allarghiamo quindi perché i fondi attivi nonostante reclutino il meglio della scuola delle tecnologie delle informazioni degli analisti perché non riescono a battere il mercato o comunque non riescono a farlo con costanza in due parole non lo riescono a fare per anzi in tre in tre sono tre le cose la prima è per i costi perché immaginate caricando dei costi al 2-3% all'anno perché di questi costi parliamo che vanno a remunerare tutta la struttura di vendita il gestore le strutture gli uffici le poltroni tutte le cose che vedete sono andate in un ufficio esatto applicando questi costi tu ogni anno primo gennaio allora tu cliente cioè se investi diciamo 100.000 euro e il costo del fondo di investimento è del 3% cioè ogni anno tu primo gennaio 3.000 euro cioè parti sotto di 3.000 euro però ragioniamo anche in ottica percentuale sai comunque che ne so il mercato azionario lo sai no vale storicamente offre un rendimento reale quindi al netto dell'inflazione del 6-7% e ho capito però se questo 6-7% cioè già gli togli un 3% di costi cioè non rimane veramente nulla e questo nei momenti in cui il mercato va bene perché poi quando il mercato va male c'è da aggiungere quest'ulteriore 3% di costi quindi i costi sono una zavorra il gestore di fondi di investimento rispetto al mercato che è il suo benchmark ripeto parte ogni anno primo gennaio con meno 3 quindi deve recuperare nel corso dell'anno un 3% di rendimento ok che non è poco anche in termini percentuali su un 10% di rendimento complessivo nominale che può dare il mercato di media così e cosa fa per cercare di compensare questo svantaggio in partenza dei costi cioè svantaggio per lui è un vantaggio perché i costi sono roba che incassa cioè svantaggio per il risparmiatore capiamoci su questo cosa fa va in iperattività ovvero compravende quindi acquista e vende in modo frenetico strumenti finanziari ed è un'altra cosa che è assolutamente controindicata controindicata perché anche qui ci sono vari studi ricerche statistiche che più operi sul mercato finanziario sul mercato azionario più hai probabilità di sbagliare quindi se non devi funzionare è uno dei grandi libri di John Bob è stay the course cioè and stick with it cioè stai nella tua strategia meno ti muovi meglio è il punto è questo meglio ti muovi meglio è quindi compra un fondo di investimento passivo che ha quelle azioni e non fare perché più fai più rischi appunto di sbagliare questo cosa vuol dire anche tornando un po' al discorso di piano sui fondi di investimento vuol dire che nessuno batte il mercato più o meno nel lungo termine sì e le pochissime eccezioni di cui volente o non volente vale noi abbiamo parliamo perché figo abbiamo parlato di Warren Buffett abbiamo parlato di Redelio con mille disclaim abbiamo parlato loro sono loro con quante persone al mondo immaginate tutti questi gestori che abbiamo detto plurilaureati MPA PhD CFE ogni tipo di qualificazione non lo fanno non lo facciano non ce la fanno comunque ci sono pochissimi casi che ci riescono per vari motivi talento ossessione Warren Buffett Redelio sono eccezioni semplicemente che confermano la regola tutto qua ora per parlare appunto di tutto quello che non funziona parliamo un po' di cosa funziona quindi perché oggettivamente entriamo nel succo perché l'idea di Bowe è così travolgente e vincente lui parte da questo presupposto lui vuole attraverso l'acquisto di un ETF sul mercato ok lui vuole catturare tutto il rendimento che questo mercato offre fissiamoci bene in testa tu compri tutto il mercato compri in questo modo tutte le aziende che compongono questo mercato tutte le azioni che compongono questo mercato in questo modo stai catturando tutto il rendimento che queste azioni sono pronte a offrire torniamo nell'economia reale di cosa stiamo parlando stiamo parlando di dividendi dividendi sono un'azienda raggiunge un utile a fine anno vende le sue cose sottrae i costi per farla molto semplice ottiene un utile una parte di quest'utile viene riconosciuto agli investitori che sei tu quando compi l'ETF sei tu l'investitore anche di quell'azione in piccola parte ti danno il dividendo gli danno i dividendi tu li rinvesti ma non solo ti danno i dividendi la parte di utile che non viene distribuito tra gli azionisti viene reinvestito per far ulteriormente crescere questa azienda questo è il rendimento che il mercato non è clic clic pin pin le cose nei grafici sono aziende reali che ci sono all'interno di questo mercato che la gente si scambia sul mercato ok che rappresentano aziende reali che fanno dividendi fanno utili fanno ricavi fanno utili erogano dividendi puntano a crescere puntano a andare avanti puntano a battere loro si che devono battere il mercato nel senso battere la loro concorrenza quello è un altro tipo di discorso ma tu come investitore devi comprare queste aziende qua che ti offrono questo rendimento ma ancora sull'idea di Bogle qual era il concetto immaginate abbiamo detto che esiste un mercato il concetto di mercato l'abbiamo visto bene dove ci siamo tutti noi investitori alla fine sul mercato tutti tantissimi investitori ok e come come gruppo il mercato abbiamo detto offre un rendimento che viene assorbito da tutti gli investitori dalla totalità degli investitori facciamo un esempio numerico il mercato dà un rendimento di 100 100x ok i 100 investitori anche un altro esempio che sono in quel momento sul mercato si dividono questo rendimento praticamente quindi il mercato dà 100 di rendimento gli investitori sono 100 ad ognuno spetterebbe un'unità di rendimento ok quindi c'è la media a cui ognuno spette uno il punto che ogni investitore che incassa più di una quota di rendimento la sta sottraendo a un altro investitore da questo punto di vista come dicevo è un gioco a somma zero perché ogni unità aggiuntiva di rendimento che tu ti vai a prendere la stai togliendo a un investitore non è una cosa così funziona così mi sembra normale ma non solo è un gioco a somma zero perché diventa in realtà anche un gioco a somma negativa quando effettivamente si sottraggono i costi perché per questo motivo qua come vedete investire sul mercato per battere il mercato è un gioco per perdenti si perde come investitori chi vince il banco chi vi vende i fondi di investimento che deve vendere questa grande bugia grazie ai suoi strategist analyst NBA riescono a battere il mercato e non lo fanno non lo fanno ok per l'investitore cercare di battere il mercato è un gioco perdente per definizione come si fa vincere in questo gioco invece come dice John Bob e noi con la mia azienda modestamente ripichiamo questa strategia di investimento ma perché non è che c'è da fare molta discussione su questo diamo i dati ci sono le statistiche funziona così voi volete continuare a credere le favolette di marketing di vendere i fondi di investimento non ci posso fare niente insomma adesso mi calmo mi inalbero su questo però come si vince su questo gioco il mercato finanziario che poi è un gioco ma è una cosa seria vi ho detto minimizzare il numero di transazioni ridurre per attività che invece fanno i fondi di investimento ridurre i costi in questo modo c'è la possibilità di guadagnare sul mercato comprando fondi di investimento passivi o indicizzati sono veramente veramente elevate perché quattro motivi semplicemente dietro a questo uno possiedi quote di aziende reali ne possiedi tante aziende reali ok sono aziende che nel loro complesso ripeto fruttano un rendimento ti danno un rendimento da questo capitale che sta investendo in due modi sia pagandoti i dividendi che reinvestendo utili per la crescita futura crescita futura che tendenzialmente si va poi a riflettere in un aumento del prezzo dell'azione quindi un guadagno in conto capitale qual è il problema di tutto questo che sembra semplice o meglio è semplice ma non è facile la solita frase che però è assolutamente così quindi basta comprare gli etf chiaro con caro perché se non sai gli etf ce ne sono 100.000 di ogni tipo di ogni cosa e poi qual è il vero problema al di là del fatto che un profano non sa quali etf scegliere quello che non è facile come sempre è affrontare e tenere emotivamente nelle fasi di ribasso perché abbiamo detto tu da investitore indicizzato ti prendi la tua ampia e giusta fetta di rendimenti quando i rendimenti sono positivi quindi nelle fasi di guadagno tu ti prendi la tua fetta è una bella fetta che ti permette di guadagnare un sacco di soldi nel corso degli anni allo stesso tempo ti prendi anche la tua fetta di rendimenti negativi la tua fetta negativa la tua fetta di torta avvariata nelle temporanee fase in cui i rendimenti sono negativi e ci sono dei ribassi sei in grado di sopportare questo perché cosa che ti dicono i fondi di investimento no noi quando i mercati vanno bene guadagniamo di più facciamo un sacco di soldi al contrario quando i mercati vanno male noi usciamo dal mercato prima non posso dire Paolaccio abbiamo deciso che deve essere questo un podcast pulito semplicemente non è vero è una bugia ok perché poi il problema per gli investitori oltre al fatto che pagano tutti questi costi parlavi del 2-3% all'anno e quando i mercati vanno bene li pagano quindi al rendimento di fine anno del mercato va tolto quel 2-3% che il fondo attivo carica e va bene ma il problema è che il costo del 2-3% viene caricato dal fondo anche quando il mercato perde quindi in quel caso perde ancora di più l'investitore perché il fondo poi come dicevi tende a non riuscire a fare market timing quindi a uscire dal mercato prima che crolli prevedendo che sta per scendere assoluto è proprio così quando si guadagna tu guagni di meno però beh hai guadagnato qualcosa e quando si perde che non ti salva nessuno dal ribasso di mercato ma anche perché non c'è niente da salvare il ribasso è una caratteristica del mercato stesso va affrontato si possono fare degli acquisti con un mercato ribassista e quello è il momento in cui stai comprando a un prezzo vantaggioso cose che non ti sanno dire la forza non te le spiegano perché no il ribasso no no noi usciamo dal mercato prima e quando però il mercato va ribasso hai un ulteriore zavorra voglio fare anche un esempio voglio dire anche un'altra cosa perché ovviamente parlare di percentuali il nostro cervello lo sai vale no non è abituato è come si può dire programmato dall'evoluzione per capire molto bene le percentuali 3% cioè vabbè dai 3% dobbiamo guadagnare tutto fermo un attimo per capirci se hai 300.000 euro investiti ovvero capitale medio di un risparmiatore magari ha preso la liquida noi stiamo parlando di mega miliardari persone che ha 300.000 euro quant'è il 3% di 300.000 euro sono 9.000 euro cioè 9.000 euro cioè 9.000 euro all'anno ogni anno in dieci anni sono 90.000 euro ok per ottenere cosa fatevi voi calcoli se è un'agendina regalata a Natale due frasettine belline due piacchiere bello però 9.000 euro non mi spenderei se hai 300.000 se hai 3 milioni 3 milioni è una cifra magari più importante sono molti meno ad averla ma anche qua anche per nostra esperienza nella nostra società non è che stiamo parlando di mega miliardari alla Berlusconi alla Ferrero 3 milioni anche lì è il milionario della porta accanto un po' di eredità un'aziendina artigianale che ha fatto un po' di cose 3 milioni il 3% di 3 milioni sono 90.000 euro all'anno che vanno via per cosa tu pensi per battere il mercato o avere una strategia di gestione one way invece niente 90.000 fanno un travaso dalle tue casse che ok ma hai 3 milioni manco te ne accorgi non te ne accorgi perché non è che ti vengono prelevati dal conto corrente con un read perché se ti arriva una transazione sulla carta di chietto meno 90.000 euro ah ragazzi blocchi tutto puoi avere 110 milioni 90.000 euro e tontanta roba ti vengono prelevati in modo silenzioso oseri dire oscuro non sto dicendo niente di che la consob stessa quindi il regolatore dei mercati finanziari in Italia sollecita sempre banca e società di investimento a essere più trasparenti perché la documentazione nella documentazione che ti arriva non è chiaro quanto ti viene addebitato c'è MIFI 2 c'è qui c'è lì non mi esprimo perché non voglio attirarmi ulteriori di feeder rotture di barra e legale non c'ho voglia però si può fare molto meglio per essere più trasparente io ti assicuro che se hai un risparmiatore che ha un milione tu gli mandi un letterino formato A4 caro investitore lo sai che quest'anno per gestire i tuoi soldi ti abbiamo addebitato quanto è su un milione 30.000 euro di interesse di costi lui ti dice no ci fosse un errore non è posto 30.000 euro ma in che senso compro una macchina non è questo perché non è scritto in questo modo c'è scritto il 3% il 2% il 2% che sarà mai capito c'è un difetto di trasparenza quindi ancora una volta Bogle numero uno perché semplicemente è passato da ha reso un po' di potere dalla mano ha preso un po' di potere dalle mani dell'industria finanziaria che come avete visto fa il buono e il cattivo tempo per un po' di ignoranza per un po' di non ci aver voglia di informarsi da parte della gente tutto quello che vuole ha preso questo potere l'ha restituito agli investitori senza pretendere da loro che diventino degli esperti di finanza comprando i fondi di investimento investendo nel lungo termine e tutte le altre cose belline che diremmo più tardi perché invece quando compri un fondo indicizzato come quelli di Bogle oltre ad essere a basso costo il costo è anche esplicitato in maniera molto trasparente giusto? sì c'è anche questo beh chi compra i TF tenezialmente sa per fare un esempio adesso perché abbiamo parlato di fondi di investimento un ETF costa lo 0,1% 0,2 0,3 cioè esplicitato meno e materialmente dalle 10 20 30 volte meno di quanto può costare un'altra un fondo di investimento quindi si è un pochino più trasparente però è che materialmente parliamo di due cose diverse una cosa voglio dire su questo perché qual è un'altra delle strategie commerciali e di marketing veramente di bassa lega che viene utilizzato per vendere i fondi attivi è il concetto di low cost messo in ottica negativa allora io non sono una persona low cost non mi piace non compro le cose per un discorso di prezzo qualche soldo ce l'ho dove voglio spendere tanto spendo tanto per ottenere chiaramente un valore indietro cioè prezzo e valore abbiamo parlato ampiamente con Warren Buffett il punto è che sui fondi di investimento paghi e basta perché abbiamo detto che il valore non c'è perché non batti il mercato cioè paghi e basta perché dice eh no la qualità costa ti direbbero no stai materialmente regalando soldi poi se ti piace regalare i soldi al consulente al promotore vabbè fagli un regalo allora gli regali direttamente un po' di soldi come si dice adotti il figlio direttamente paghi gli studi al figlio diventi perché se no così è un po' una presa in giro quindi non è solo un concetto di low cost comunque costano anche gli etf lo 0.1 o 0.2 voi immaginatevi anche Boclo che aveva un'azienda fondata così è morto con un sacco di soldi li ha fatti anche lui se non è rimasto low cost viaggiava con Ryanair ragazzi faceva le sue cose anche lui per carità però qual è il punto bisogna pagare cioè pagare il giusto anche pagare il giusto è un concetto che non mi piace cioè pagare in base a quello che si ottiene indietro pagare in base a quello che si ottiene indietro i costi ci sono anche sugli etf lo 0.1 lo 0.2 se recluti un consulente finanziario indipendente c'è il suo costo un altro 0.5 un altro 0.6 che capiste bene un per cento complessivo non è un 3% ok cioè sono due cose molto 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 diverse che nel lungo termine offrono grandi differenze di rendimento insomma sì e che magari nella mente di una persona da 1 a 3% non è poi così tanto ma in realtà 3% è 3 volte e in valore assoluto su cifrettine interessanti sono decine di migliaia di euro decine di migliaia di euro pensa anche quanto guadagna l'italiano medio o comunque dagli un valore in paragono ripeto a cose reali tangibili cioè comunque stai regalando una macchina all'anno a un'altra persona che è una macchina è nata in voi fai una vacanza con tua moglie o qualunque cosa cazzo meglio che buttare soldi al cesso e abbiamo detto che John Bogle ha fondato Vanguard con una filosofia di investimento in contrapposizione ai fondi attivi di cui stiamo parlando hai detto sono fondi di investimento che promettono di battere il mercato cosa sono nello specifico questi fondi attivi e come funzionano in modo particolare vediamo la realtà italiana che è quella che poi ci interessa di più e dopo aver visto questo oltre ai fondi attivi esistono altri soggetti che nel loro marketing così come fanno i fondi attivi promettono di battere il mercato se investi con loro mi vuoi attirare proprio le ire di migliaia di consulenti finanziari e promotori finanziari i fondi attivi ripeto nascono con un obiettivo nobile che è quello di permettere di una buona diversificazione anche al risparmiatore che non è tutti i giorni in borsa a comprare azioni di qua e azioni di là oppure non dispone di capitali quindi sono nati con un obiettivo obiettivo nobile cos'è un fondo di investimento perché ripeto anche gli etf sono dei fondi di investimento da un punto di vista giuridico no? cambia solo il modo in cui sono gestiti l'abbiamo detto prima il fondo di investimento è un contenitore di denaro un veicolo una scatola che praticamente fa colletta una colletta che passa lì in mezzo ai risparmiatori a raccogliere denaro date i soldi a noi con questo denaro qua vanno sul mercato che abbiamo spiegato prima e vanno a comprare azioni vanno a comprare azioni o le comprano tutte fai vedere il menu compro tutto ok etf fa questo oppure ne comprano solo certe e altre le lasciano le lasciano sul bancone perché non gli piacciono perché la loro visione eccetera e questo è quello che fanno i fondi attivi prendono delle scelte di stock picking e anche sector picking quindi scelgono i settori su cui investire le azioni particolari sulla base delle proprie idee questo non c'è niente di male in tutto questo e si può fare magari anche per si può fare anche il spagnatore può farlo con una piccola quota del proprio patrimonio non sto dicendo che può fondare un fondo di investimento attivo però lui stesso può fare quello che fa un gestore attivo fa un po' di ricerca che compra qualche azione così disclaimer con quote marginali del proprio capitale signore ok perché perché con quote marginali perché stai facendo una cosa che stai andando contro il calcolo delle probabilità è verosimile con questo tipo di attività che può essere anche interessante e sfidante come attività è bello noi lo facciamo lo facciamo lo faccio anche io con una parte molto marginale del capitale che mi piace analizzare i bilanci vedere un po' prospettive eccetera consapevole che con una buona probabilità avrei fatto meglio a comprare un etf anche con quei soldi là lo so è così questo è quello che fanno i fondi attivi ripeto è un'industria finanziaria è un'industria negli Stati Uniti chiaramente il dibattito tra queste due cose qua è molto più avanzato in Italia ancora poco per quanto ormai si parla sempre di più di etf tra l'altro la nostra azienda è tra quelle che ha portato il concetto di etf sempre più persone lo conoscono anche grazie a noi assolutamente quindi bene così ben venga così c'è un'altra categoria ora se ci pensi Vale che promette di battere il mercato perché che si dica in maniera super chiara e magari ti strigliano un po' pure le orecchie perché non si può fare questo tipo di comunicazione così o in maniera implicita ti stanno dicendo di battere il mercato che sono tutti i vari li chiamo trader dalla cameretta tendenzialmente che è grazie ai loro software perché ci sono quelli che hanno tutti gli MBA super certificati dietro queste cose invece gli altri hanno i loro software gestionali pazzeschi expert advisor trading systems è così che e loro invece hanno il sacro graal di poter battere il mercato ovvero farti guadagnare sempre e perdere mai chiudo qua il discorso con una cosa molto 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 semplice battere il mercato perché è veramente difficile Valerio se ci pensi battere il mercato perché si tratta da un certo punto di vista di prevedere il futuro ora tu dimmi se è umano o meglio se è razionale se è possibile pensare veramente di poter prevedere il futuro perché se indovini una volta cosa succede domani è fortuna diciamo l'hai buttata lì ti hai visto ti ricordi sul gruppo abbiamo fatto la previsione io non so perché per farti ridere no un mio video in cui stavo lanciando una diretta sul gruppo era agosto del 2018 dove prendo in giro questo concetto qua e dico ho fatto un sogno cioè Benjamin Graham mi ha apparso nel sonno mi ha detto che il momento di comprare a piene mani sul mercato sarà il 23 marzo del 2020 ed era vero perché io due anni prima prendendomi in giro ma lo azzecchia capisce una volta è fortuna una volta è fortuna una volta è il caso è ovvio che sia il caso stavo scherzando la verità è che altra gente si starebbe rivenduta questa previsione hai visto perché io lo so due anni prima non c'era coronavirus non c'era niente di niente per pura fortuna calcolo delle probabilità ho beccato il biglietto vincente scherzando ma cosa vogliamo fare vogliamo scommettere vogliamo giocare d'azzardo vogliamo fare i gratte vinci o vogliamo investire i soldi sudati guadagnati con un sacco di magari risparmiati quindi sottratti a un consumo che sarebbe più soddisfacente che serviranno per la pensione serviranno per i cosa vogliamo fare qua giocare fare oppure vogliamo investire come si deve per stare un po' più tranquilli più in base investire con successo i principi di investimento validi tuttora che Bogle raccomanda agli investitori individuali alle persone comune per capirci sono investire invece di speculare avere un orizzonte di lungo periodo invece di pensare a fare movimentazioni continue di breve periodo e ridurre il più possibile le commissioni di investimento quindi tenendo in considerazione questi principi secondo Bogle l'investimento ideale è un fondo indicizzato a basso costo come Vanguard ad esempio tenuto per un periodo di tempo molto lungo parliamo anche di decenni reinvestendo continuamente i dividendi per sfruttare l'interesse composto e quello che si chiama dollar cost averaging tu stesso condividi tutti questi punti sono quelli su cui si basa anche la tua strategia di investimento che hai insegnato e insegni a migliaia di investitori e sono tutti punti molto importanti quindi vediamoli uno a uno così che tutti possano capire bene quindi il primo investire invece di speculare qual è la differenza? ne abbiamo spiegati anche un po' nel corso di questo podcast rivediamoli un po' dai uno a uno che poi Bogle ha detto tante altre cose fantastiche però non la finiamo più due cose caratterizzano la differenza appunto tra investire e speculare la prima è il tempo perché l'investimento è quello che ti ho detto prima che Bogle vuole fare che Bogle insegna a fare e che Bogle permette di fare i costi fondi ovvero comprare investire quindi su comprare azioni reali aziende reali che nel corso del tempo sviluppano quel meccanismo che ho detto ripeto fatturano quindi realizzano ricavi hanno degli utili e poi distribuiscono dividendi una parte la reinvestono e l'azione cresce di prezzo di valore nel corso del tempo questo è quello che dovrebbe fare quindi è un concetto di tempo questo è un processo che avviene anche nel corso del tempo perché non è cioè non so se un'azienda pensate che possa fare tutto questo processo qua di creazione di valore in tre mesi non può farlo in tre mesi di queste cose qua le aziende lo fanno in cinque sei sette dieci anni perché nell'investimento cioè un buon orizzonte temporale dieci anni perché in dieci anni che tendenzialmente magari anche un po' meno però comunque sempre pluriennale che un'azienda appena fondata pensate che quando è proprio una pensate ad amazon che adesso amazon grande amazon capito cioè però è stata fondata se non erro nel 96 quando è che è diventata veramente quello che è dopo 15 anni cioè ok capite bene che questo concetto qua ha bisogno di tempo il punto è investire significa ricercare e ottenere valore il valore ha bisogno di tempo per essere prodotto ok quindi la prima differenza investire lungo termine speculare breve termine ok l'altro concetto è il concetto di rischio che è quello che ti ho detto prima cioè battere il mercato perché alla fine chi vuole battere il mercato sta speculando non è un investitore sta speculando che va bene è una cosa che mi sta benissimo per carità però bisogna anche chiamare le cose col proprio nome sta speculando e va bene così perché comunque se conosce queste statistiche che ho snocciolato penso le conosca se uno del settore alcuni manco il traderino in camaretta non sa manco dove è messo quindi non le conosce neanche queste cose qua però c'è la verità che stai andando contro le probabilità cosa vuol dire andare contro le probabilità ti stai assumendo un rischio molto 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 elevato quindi la speculazione effettivamente è un'attività che si può fare in meno tempo si possono ottenere i risultati in meno tempo ma ci sono veramente poche probabilità di ottenere questi risultati la verità è questa l'investimento è un'attività invece che sprigiona matura i frutti nel lungo termine e ci sono veramente ottime 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 probabilità che vada a buon fine ovvero che tu ci guagni denaro perché dico ottime 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 e non vai tranquillo 100% che guadagnerai di sicuro perché c'è comunque comunque una componente di rischio se no sarebbe un investimento garantito ovvero non sarebbe un investimento perché se è garantito non è più un investimento forse un buono postale che per quanto ci sia anche lì del rischio ma non c'è del rendimento ok quindi tra investimento e speculazione questo è un po' ci sono mille poi definizioni questa cosa qua è super interessante il concetto ed è una delle principali come si può dire confusioni che vengono fatte nel mondo finanziario anche e soprattutto da addetti ai lavori ho anticipato quindi un po' il secondo punto quindi ancora avere un orizzonte di lungo periodo invece che di breve periodo perché lungo periodo perché quello che ti ho detto prima essendoci più tempo a disposizione più l'interesse composto si sviluppa più l'interesse composto dà i suoi frutti interesse composto brevemente sono gli interessi che tu guadagni da interessi che hai guadagnato in precedenza per prenderla dall'altro punto di vista ogni euro di interesse che guadagni è subito lì pronto per generarti altri interessi ok ma al di là di questo effetto composto di capitalizzazione composta ogni anno in più che tu passi sul mercato investito sono guadagni in più anche se l'interesse fosse semplice anziché interesse composto cioè se la media di rendimento che offre il mercato azionale proprio per semplificare ultra semplificare se la media di rendimento offerta dal mercato con i modi che abbiamo visto li ripeto dividendi crescita degli utili crescita del prezzo dell'azione ok quindi media rendimento 7% cioè ti faccio questa domanda la valide cioè conviene investire per un anno quindi guadagnare il tuo 7% oppure conviene investire per 10 anni che vuol dire che vorrebbe dire guadagnare con l'interesse semplice il 70% 7 per 10 anni con l'interesse composto ecco l'extrarrendimento si arriva a quasi il 100% 30% cosa ti conviene un anno 7% 10 anni 100% sì chiaramente 10 anni perché lungo termine perché si guadagna di più tu mi direi io preferisco il 100% in un anno e ho capito anch'io lo preferirei non ti dico che non è possibile 100% impossibile 99 periodico impossibile dico solo che è molto rischioso cosa vuol dire che è molto rischioso vuol dire che perdi denaro ci sono elevatissime probabilità che tutti gli aspetti tu vorresti ti hanno detto di guadagnare il 100% in un anno invece perdi tutto cosa vogliamo fare questo è un po' breve e lungo termine abbiamo detto un po' poi ridurre commissioni di investimento sì ogni soldo che tu dai a qualcuno in maniera poco trasparente non trasparente come commissione come tutto ogni soldo che tu non hai più è un soldo che può non viene più investito sul mercato e non produce questi interessi qua quindi il discorso è questo il costo o meglio il rendimento che tu otterrai alla fine di questo tuo viaggio come investitore viene ridotto dai costi che vai a sostenere costo è funzione inversa del tuo rendimento è proprio un nemico il concetto di costi ripeto alcuni devi sostenerli perché devi sostenerli per comprare l'etf devi sostenerli per costruirsi una strategia perché a meno che tu non sia un consulente finanziario indipendente per te sarei un medico sarei un ingegnere non è che puoi neanche comprare devi sostenere quelli giusti con attenzione che ti vengono comunicati in modo trasparente che tu farai una valutazione se in base a quanto hai pagato hai ottenuto un valore indietro superiore uguale a quanto al valore economico che hai dato alla transazione questo è un po' quello che dobbiamo fare ma altre cose sull'interesse composto abbiamo un po' detto assolutamente anche sul dollar cost averaging quindi comunque reinvestire costantemente perché più denaro investi sul mercato più denaro rimane sul mercato quindi più più rendimenti si possono produrre nel corso del tempo dollar cost averaging è importante anche da un altro punto di vista ora qui reinvestire i dividendi non è proprio dollar cost averaging sono due concetti abbastanza differenti però ne approfitto per spiegare questo che in italiano lo conosciamo come piano di accumulo tendenzialmente introduco un concetto in cui in questo podcast abbiamo parlato poco col piano di accumulo ovvero semplicemente comprare costantemente anche reinvestendo i dividendi incassati quindi in realtà c'è una una connessione a quanto abbiamo detto quindi anche reinvestendo i dividendi comprando costantemente stai comprando costantemente sul mercato a qualunque prezzo cosa vuol dire a qualunque prezzo che quando i mercati vanno al ribasso perché c'è un momento di negatività sul mercato come è normale che sia perché il ribasso è una caratteristica del mercato non è un difetto del mercato i mercati sempre vanno su che mercato è questa roba che mi hai visto dove è stato questo mondo dove tutto va sempre bene non esiste il mondo delle favole così quindi compri a qualunque prezzo e da un certo punto di vista quando i mercati sono al ribasso se tu ci pensi stai comprando a prezzi scontati stai comprando a prezzi convenienti stai comprando a prezzi ribassati che quando poi si riprenderanno perché poi il mercato si riprende ti daranno degli ottimi risultati hai comprato a sconto che hai comprato a 50 poi le cose vanno bene puoi rivendere a 100 capisci bene che è interessante interessante rendimento quindi questo è un sacco di cose anche Boblo poi tra l'altro parliamo un secondo tra i libidi tra pochino è stato è un grande scrittore veramente prolifico di testi super interessanti di una persona enormemente riflessiva pur essendo una persona estremamente pratica perché come abbiamo parlato di Warren Buffett che è comunque fondatore CEO di Bridgewater perché fondatore non l'ha fondatore ma l'acquisito imprenditore quindi Ridelio Bridgewater di Merck esatto così anche Bogle ha fondato un'azienda con benzine di migliaia di dipendenti cifre enormi in gestione processi in te non l'ha fatto da solo lui era effettivamente l'ideatore di questa grande strategia quindi era un po' il direttore artistico di questo movimento se voglia il direttore filosofico cosa che ha messo in un sacco di sui libri abbiamo qualcuno qua poi dopo li vediamo c'erano un po' tutti il battlefield è solo capitalismo come un senso molto sono liberamente belli però ripeto una persona pratica che si è messo a fare le pippe mentali su questo concetto di indicizzazione ha creato un'azienda ha creato un prodotto ha creato degli strumenti che potessero veramente mettere in pratica questa sua intuizione quindi doppiamente numero uno per la teoria per la filosofia vincente bellissima illuminante e per la pratica perché l'ha messo l'ha messo in pratica e questa è una cosa che vale diecimila volte tanto quindi spettacolare da leggere anche lì parliamo brevemente di alcuni dei suoi sì ecco di questi vari libri scritti da John Bogle quali sono i più interessanti da cui possiamo imparare spunti utili allora ho le mie opinioni in materia ti sto intervistando perché hai letto le opinioni ci sta questo discorso qua allora guarda io ti dico per un investitore un risparmiatore privato che vuole insomma avere qualche spunto utile qualche concetto utile sicuramente il piccolo libro dell'investimento finanziario è il più interessante insomma perché è molto insomma è conciso è semplice parlare di tutte queste cose che abbiamo detto sono comprensibili e va bene c'è sia in italiano che in inglese e magari ci dedichiamo una puntata apposta perché è super è super denso anche questo è uno dei libri che noi consigliamo nella nostra lista di libri must read ok che trovi sul blog lixinvest.com scrivi libri da qualche parte ti verranno fuori questi libri quindi quello è il più adatto questo qua quindi the common sense of mutual funds è un mallopone sono 600 pagine è veramente non mi sento di consigliarlo perché è abbastanza tech è un libro quasi tecnico quindi molto interessante per chi magari ha detto ai lavori e magari vuole diventare il nostro se vuoi candidarti per lavorare in lexinvest questo è magari uno dei testi che devi studiare per essere per avere un minimo di non dico il nostro livello però per essere sintonizzato con noi nel sito 3 invece che sono più legati al Bogle non dico persona ma al Bogle imprenditore alle idee di John Jack quello che chiamavano Jack non ho capito perché si chiama John lo chiamavano Jack però va bene così questo è bello The Battle for the Soul of Capitalism molto interessante il titolo è chiaro diciamo la battaglia per preservare l'anima del capitalismo quindi qua Bogle parla quasi da economista da sociologo fa valutazioni molto importanti su come su dove sta andando il capitalismo e anche questo è molto importante perché è un dibattito importante anche Ridelio ne parla perché ok siamo tutti capitalisti per carità siamo investitori eccetera è il miglior sistema economico possibile immaginare ci mancherebbe altro alcune cose magari oggettivamente non stanno funzionando io direi magari per interventi di pianificazione centrale troppo troppo accentuati è un bel dibattito economico sono cose di cultura molto molto interessanti quindi uno è questo altri due che cito sono stay the course ok pubblicato nel 2018 quindi la storia di Vanguard della rivoluzione degli ETF quindi index revolution che è super recente molto 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 interessante ripercorre un po' le tappe perché sono anche ripeto quelle di una storia di successo di un uomo cioè normale cioè normale non è che fosse un uomo con tre cervelli e quattro un uomo normale è cresciuto anche nato nel 29 in realtà la sua famiglia è andata tipo in pezzi perché con la crisi economica il padre è iniziato a bere cioè niente di super ha perso il lavoro un po' così è normale è normale non tanto normale è una situazione non super 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 ideale con questo suo animo ribelle ha creato una devoluzione così molto bello questo libro qua è anche Enough The Measures of Money Business and Life anche questo è abbastanza recente dove filosofeggia un po' appunto su quali che possono essere su quelli che possono essere dei parametri dei parametri di successo cioè quando è che è abbastanza quando è che ti puoi sentire tra virgolette arrivato un po' di parametri che possono fotografare o meno il successo per quanto riguarda i soldi per quanto riguarda gli affari per quanto riguarda la vita in generale molto interessanti posto che diciamo il libro cardine tra virgolette per il risparmiatore privato è il piccolo libro dell'investimento denso di concetti utili applicabili con criterio quando si va a investire i propri soldi perché un libro è sempre un libro non è che è un corso una consulenza specifica e magari ne parliamo in un'altra ne parliamo nella prossima puntata bene bene nel frattempo un po' di spunti interessanti di lettura per i nostri ascoltatori sì 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 poi li mettiamo nei commenti no sì sul sito esatto mettiamo i commenti da qualche parte ve li diciamo poi uno va a bo e li trova dai ok e Luca nel 2015 è uscito un articolo su Fortune la nota rivista di finanza e investimenti che diceva che se Trump avesse messo i soldi di suo padre in fondi indicizzati a basso costo quindi quelli di cui abbiamo parlato in tutto questo episodio quelli di Vanguard di Bogle se avesse fatto questo senza mai toccare questi soldi semplicemente messi lì e lasciati lì per il lungo periodo avrebbe guadagnato molto più di quanto ha guadagnato con tutte le sue attività imprenditoriali di aziende alberghi casinò società immobiliari eccetera e in particolare l'articolo diceva che dal 1987 il patrimonio di Trump è cresciuto del 300% fino a 4 miliardi di dollari ma se invece avesse semplicemente comprato fondi indicizzati senza fare nient'altro il patrimonio sarebbe cresciuto fino a 13 miliardi questo perché in quello stesso periodo quindi dalla fine degli anni 80 al 2015 quando è uscito questo articolo l'S&P 500 l'indice americano è cresciuto di oltre il 1300% non so se Trump abbia mai letto questo articolo ma non credo gli farebbe troppo piacere allora guarda la realtà dei fatti capisci la potenza di questa filosofia non la puoi battere non la puoi battere ovvio che sia così però attenzione qui dico un'altra spezzo una lancia su chi impiega i propri capitali in modo speculativo alla fine speculatore di Trump lui era proprio uno speculatore immobiliare anche no quindi è perfetto comunque non solo in modo speculativo in modo imprenditoriale se no che facciamo vale tutto il mondo mette i propri soldi in indici in ETF nessuno più fa aziende nessuno più rischia sul mercato non mi interessa se nessuno compra più i fondi attivi un altro discorso poi in realtà ci vuole qualcuno che controbilancia anche per un po' di equilibrio di mercato però io penso ci sia anche chi penso anche a me adesso faccio questo esempio qua che magari non c'entra niente però io ho la mia quota chiaramente ampia quota di ETF tanti soldi ce li ho in azienda nella mia azienda ma perché mi auguro che i soldi che ho investito lì nella mia azienda con cui pago persone pago fornitori vendo mando avanti l'economia reale perché anche di questo si tratta no mi auguro che di avere un ritorno da quel capitale più elevato di quello che mi offriranno gli ETF non sono certo di questo perché non sono certo di questo ma perché io perché c'è un rischio anche molto maggiore cioè non solo Trump ok hai fatto l'esempio di Trump avrebbe gli sarebbe convenuto così ma poteva andare molto peggio a Trump cioè poteva andare completamente fallito a parte che l'hanno aiutato qualunque imprenditore immaginate anche un piccolo imprenditore cosa fa anziché magari che ha un capitale di base di partenza se no tutti investiamo in ETF no cosa fa rischia questo capitale su un'attività reale non sperando perché non è speranza però cercando di ottenere da questo capitale una remunerazione maggiore rispetto a quella che può avere dalle alternative che può essere mettere i soldi su un conto deposito cazzo comprare un immobile anche cose così quindi lui con questa sua intrapresa si attende un rendimento maggiore qualche volta ottiene un rendimento superiore al mercato qualche volta uguale qualche volta un po' inferiore come Trump qualche volta non ottiene proprio niente cioè fallisce e va bene così e va bene così per lui molto meno però mi auguro che si possa ricreare non è neanche una macchia così di un fallimento e la distruzione creativa alla Schumpeter perché è proprio così perché magari lui effettivamente in quel mercato là non è riuscito a offrire nulla che gli ha permesso di guadagnare soldi o di stare sul mercato ha fatto spazio a un'altra intrapresa di una persona che magari aveva più qualità semplicemente non è un discorso di qualità ho detto una festeria semplicemente a una persona che aveva di più da offrire sul mercato che risolveva un bisogno o una necessità o un desiderio dei consumatori che sono coloro che veramente comandano sia nel mondo finanziario che nel mondo reale risparmiatore il consumato il cliente lo risolvono meglio e quindi è giusto che in un meccanismo competitivo concorrenziale vadano avanti loro e facciano più soldi loro chi in quell'impresa l'ha ha fallito ne farà un altro se la vi se la vi non si può vincere sempre basket io perdevo spesso ero scarso da tre qualche volta non entrava più le volte non entrava con le ragazze qualche volta una ragazza ha preferito un altro a te se li provi la prossima volta andrà meglio un'altra volta se non fai niente perché non vuoi mai perdere o rischiare di perdere non ti muovi di là insomma ok sempre sempre considerazioni molto interessanti grazie Luca Lixi termina qui questa puntata tutta dedicata a John Bogle e alla sua filosofia di investimento perfetto perfetto grazie a te Valerio ripeto mi diverto un sacco perché vengono fuori un sacco di cose super 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 interessanti speriamo che siano interessanti anche per chi ci ascolta la mia formuletta ma è questa qui effettivamente e ancora adesso scriveteci su staff sul gruppo in questo sito dove vedrete o stato questo video o podcast ci trovate insomma scriveteci in qualche modo un po' le vostre considerazioni delle proposte delle cose insomma approfondite anche i concetti che abbiamo che abbiamo detto chiaramente siamo qui per fare divulgazione però insomma se c'è anche uno scambio di opinioni interessante con qualcuno che magari ha studiato delle cose anche leggermente differenti perché no insomma bene salutiamo allora tutti i nostri ascoltatori e gli diamo appuntamento al prossimo episodio del nostro podcast i principi dell'investimento ciao a tutti e alla prossima